Washington risponde all'uccisione di tre soldati statunitensi e raid americani di rappresaglia in Siria e in Iraq contro le milizie iraniane. La protesta dei trattori arriverà a Roma, adesioni da tutta Italia, non ci saranno blocchi dicono ma sicuramente disagi. Carovita ed inflazione, famiglie italiane mai così povere dal 2005, impicchiata il potere d'acquisto. Buongiorno dal TG2000, in apertura i raid di Washington contro obiettivi della guardia rivoluzionaria iraniana ma nessuna guerra conterà, afferma l'amministrazione Biden. Federico Plotti. Come annunciato è arrivata la rappresaglia dopo l'attacco con droni della settimana scorsa su una base americana in Giordania, rivendicato da resistenza islamica, gruppo sostenuto direttamente da Teheran che ha provocato la morte di tre militari statunitensi. 125 le bombe ad alto potenziale sganciate su un'ottantina di obiettivi iraniani in Siria e Iraq spiegano da Washington, utilizzati anche i super bombardieri a lungo raggio B1 decollati direttamente dagli Stati Uniti. Abbiamo colpito e distrutto strutture di controllo, centri di intelligence, depositi di ardu e strutture logistiche utilizzate, si legge nel comunicato ufficiale del Comando Centrale delle Forze Armate Americane, dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana e da gruppi di milizie affiliati. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani sarebbero rimasti uccisi una ventina di civili mentre il Pentagono parla di 13 miliziani morti durante il raid. Non vogliamo la guerra ma se ci colpiscono noi reagiremo e non abbiamo ancora finito, ha detto il presidente Biden, che ha dato il via all'operazione proprio nel giorno in cui le salme dei tre soldati americani sono tornate a casa. E mentre Teheran per il momento tace, non lo fanno Iraq e Siria. Baghdad parla di violazione della sovranità irachena, annunciando conseguenze nefaste mentre Damasco chiede la fine dell'occupazione americana, così la chiamano, di parti del territorio siriano. Un appello alla moderazione arriva dall'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Borrell. Da Londra invece il sostegno a Washington. Gli Stati Uniti hanno il diritto di rispondere agli attacchi subiti, dice il portavoce del governo britannico, ribadendo la condanna alle attività dell'Iran che stanno causando instabilità in tutta la regione medio orientale. Veniamo proprio al conflitto medio orientale. Gravissima la situazione a Gaza, soprattutto per i più piccoli. Maurizio Dischino. La situazione è terribile, esplosiva. Non usa mezzi termini Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, per definire quanto sta succedendo nella striscia di Gaza in tutto il Medio Oriente. A margine del Consiglio Affari Esteri organizzato a Bruxelles, stamani Borrell ha fatto notare che la continua attività militare di Israele nel sud di Gaza spinge i civili verso il confine con l'Egitto, dove ci sono un milione di sfollati interni. Israele dice che sono zone sicure, ma, ha denunciato Borrell, di fatto non lo sono e i bombardamenti continuano a colpire la popolazione civile, creando una situazione terribile. Senza fare riferimento agli attacchi aerei americani contro milizie in Siria e in Iraq legate all'Iran, Borrell ha poi sostenuto che in Medio Oriente tutti dovrebbero cercare di evitare che la situazione diventi esplosiva. Ma a Gaza si contano già 120 giorni di guerra tra esercito israeliano e gruppi armati palestinesi. Secondo il Ministero della Sanità, gestito da Hamas, finora sono almeno 27.238 i palestinesi morti nella striscia di Gaza a causa degli attacchi israeliani dal 7 ottobre scorso. 66.452 i feriti. Questa notte sono stati più di 100 i morti in tutta la striscia. A Rafah, solo in un edificio, sono stati uccisi 14 palestinesi durante un attacco aereo israeliano. L'Unicef ha affermato che a causa della guerra, nella striscia di Gaza, almeno 17.000 bambini sono non accompagnati o separati dai genitori. E veniamo al conflitto in Ucraina. Preoccupano le dichiarazioni del Presidente Putin sull'armamento nucleare russo e sull'aumento delle spese militari di Mosca. Ci colleghiamo con Kiev, dove si trova il nostro inviato, Vito del Torre. Buongiorno Vito, dove ti trovi? Sì, buongiorno da Kiev. Siamo in questo momento nel tunnel della metropolitana perché pochi istanti fa è scattato un allarme aereo su tutta l'Ucraina, dunque questo è l'unico posto sicuro dove possiamo stare. È stata una notte difficilissima, attacchi ucraini con droni contro la Russia. In fiamme un'importante raffineria del colosso energetico Lukoil. La risposta russa non è tardata ad arrivare. Su quattro regioni sono stati lanciati numerosi droni. In ginocchio la regione di Dnipo-Pretrovsk. 15.000 persone sono senza elettricità. L'aviazione militare ucraina dice di aver abbattuto nove droni su quattordici lanciati. Questa mattina a Kiev c'è stata una manifestazione davanti al municipio di Kiev con circa 2000 ragazzi in piazza. Un numero importante visto che adesso è in vigore la legge marziale che vieta qualsiasi manifestazione pubblica e manifestavano contro la corruzione, contro l'uso sbagliato dei fondi che vengono messi a disposizione dell'Ucraina per sostenere l'esercito. Tantissimi gli slogan ma anche momenti di preghiera per i loro amici. Erano tutti ventenni, trentenni per i loro amici che in questo momento sono al fronte e che per chi non c'è più. Gli slogan più gridati erano contro la corruzione, contro l'arricchimento in questo momento di guerra. È tutto per il momento a Kiev. Ancora c'è l'allarme aereo. Vi restituiamo la linea. Grazie Vito. Attacco alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Intorno alle otto tre persone sono state accoltellate. È arrestato un 32enne di origini maliane con disturbi psichiatrici. Un ferito è grave ma non in pericolo di vita. L'uomo era armato di coltello e martello e avrebbe presentato al momento dell'arresto una patente di guida italiana. La marcia dei trattori. La protesta degli agricoltori punta su Roma. L'ala oltransista della categoria si mobilita. Le sigle affermano non ci rappresentano. Beatrice Bossi. La provincia di Caserta si unisce alla protesta degli agricoltori. Casal di Principe stamattina è stata invasa dai trattori, motori accesi e prima ingranata in direzione della capitale. Ci stanno proprio massacrando. Il gasolio non si può comprare più. Frutte che arriva dai paesi esteri a prezzi stracciati con trattamenti che noi ci hanno vietato da anni. Quella che è scritta oggi a Bruxelles non è assolutamente transizione ecologica. Oggi quello è mettere in difficoltà le imprese e favorire oggi i mercati esteri e anche extraeuropei nella competizione di mercato. La prossima settimana il loro malcontento si unirà a Roma con quello di tutti gli agricoltori italiani. Ammasseremo i trattori fuori città, hanno detto, facendo preoccupare soprattutto gli automobilisti romani. Si spera di scongiurare quanto avvenuto nei giorni scorsi a Bruxelles, dove copertoni bruciati e rabbia hanno fotografato l'assalto al cuore dell'Europa. L'apertura al dialogo già in Francia ha affermato la mobilitazione e anche in Italia adesso il governo sta pensando ad una proroga dell'esenzione IRPEF. Il Ministero dell'Economia è già al lavoro per trovare le risorse. Nei prossimi giorni l'esecutivo potrebbe introdurre nuovamente gli sconti fiscali ai piccoli imprenditori agricoli. Caro vita ed inflazione, rosa la ricchezza delle famiglie italiane, tanto da registrare redditi mai così bassi dal 2005. Un vero e proprio salto nel passato. Caterina Dall'Olio. Le famiglie di medio reddito in Italia hanno speso 4.000 euro in più per le spese generiche per colpa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021 e il 2023. I rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, ma anche i prodotti alimentari di prima necessità come zucchero, riso, olio, latte e burro. E poi le bollette di luce gas. Quest'ultimo in particolare sale di quasi il 7% a gennaio per i clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela e, secondo gli esperti, non calerà per tutto l'anno. Rispetto a due anni fa, le famiglie hanno subito aumenti spaventosi e hanno portato a casa un numero di beni e di servizi decisamente inferiore. Una situazione che ha penalizzato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nei centri storici e anche nelle periferie il numero delle insegne rimorse e delle vetrine con le salacinesche abbassate sono in costante aumento. Con meno negozi di prossimità diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d'uomo, penalizzando soprattutto gli anziani, una platea sempre più numerosa che in Italia conta più di 10 milioni di over 70. La stangata nei prezzi poi ha destabilizzato in particolar modo le famiglie più fragili economicamente. L'aumento generalizzato della spesa infatti ha provocato una perdita di potere d'acquisto mai così alta da almeno 25 anni. La cronaca intorno alle 2.30 della notte scorsa. All'eco una auto è uscita di strada e si è ribaltata. Hanno perso la vita a due ventenni. È accaduto ad un'uscita della superstrada 36 sul lungolago in località caviate. Ed ancora cronaca. A Lecce una testa di capretto è stata trovata davanti alla casa di una giudice sottoscorta. Le intimidazioni sarebbero legate alle sue indagini e antimafia. Luigi Ferraiolo. I boss spergiurano di non centrare nulla ma le minacce e i gravi al GIP di Lecce Francesca Mariano fioccano. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso davanti l'uscio dell'abitazione del magistrato è stata lasciata una testa di capretto insanguinata con una lunga lama da macellaio infilzata. Con la scritta così il giudice si è accorto dell'ennesima intimidazione dopo aver sentito alcuni gattini litigare sulle scale dell'abitazione. È scesa e ha compiuto la macabra scoperta. Il GIP come il PM Canmerruggiero è stato già oggetto di minacce alcuni delle quali deliranti e riconducibili a legami con il demonio e a riti satanici per ucciderla. La procura di potenza competente per i magistrati salentini ha aperto un fascicolo di indagine e le prefetture di Lecce e Brindisi hanno disposto misure di tutela sempre più stringenti. Si scava in una delle recenti inchieste antimafia che ha consentito di smantellare un clan attivo nel Brindisino, in particolare i Cantanna alla Mendola. Ma i boss tramite gli avvocati si sono subito dissociati alle prime minacce avvenute ad agosto scorso. Trento è capitale europea del volontariato per il 2024. Il Presidente della Repubblica Mattarella è giunto nella città per l'inaugurazione ufficiale. Alla cerimonia partecipano oltre 1200 volontari e 400 studenti assieme ai rappresentanti delle istituzioni provinciali regionali, delle comunità di valle e degli enti locali. È morto Vittorio Emanuele di Savoglia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia di Maria Iosea. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio prossimo. Il decesso a Ginevra alle 7 di questa mattina, l'annuncio in una nota della Real Casa di Savoia. E dal Vaticano una nota del dicastero della dottrina per la fede sulla validità dei sacramenti. E l'annuncio che dal 28 aprile al 2 maggio si svolgerà l'evento dal titolo parroci per il sinodo, un incontro internazionale presso la fraterna Domus Sacrofano vicino a Roma. 300 i partecipanti che saranno ricevuti in udienza dal Papa Paolo Fucisi. Nella pastorale della Chiesa c'è ampio spazio per la creatività ma non nel celebrare i sacramenti quando invece si deve osservare fedelmente ciò che è scritto nei libri liturgici senza aggiungere, togliere né mutare alcunché. A ribadirlo oggi con fermezza motivata in dettaglio in 12 pagine è il dicastero per la dottrina della fede. Con gesti e parole si intitola in italiano la nota appena pubblicata a firma del prefetto Cardinal Fernandez. L'intento è un chiaro alto là a chi celebra i sacramenti a iniziare dal battesimo modificando formule e riti magari in buona fede per rendere una liturgia più comprensibile a parere personale ma invalidando così il sacramento stesso. La presentazione di gestis verbisque e il titolo originario latino cita casi persino di sacerdoti battezzati con formule improprie che han reso invalida anche la loro ordinazione sacerdotale. Si parla sia di materia cioè pane acqua olio vino oppure gesti come il segno della croce l'imposizione delle mani l'unzione sia di parole che costituiscono la forma del sacramento. Superiamo esorta la nota rivolta ai sacerdoti la tentazione di sentirci proprietari della chiesa che ci ha soltanto affidato i tesori dei sacramenti che non sono nostri perciò firmato Cardinal Fernandez ma con esplicita approvazione del sommo pontefice Papa Francesco. Il santo padre ha nominato vescovo di San Marino Montefeltro il reverendo Domenico Beneventi del clero dell'arcidiocesi di Acerenza parroco e docente lo rende noto il bollettino della Santa Sete. Andiamo ora a Milano il nuovo direttore musicale dell'orchestra sinfonica è il 28enne Emmanuel Jack Navorian viennese di origine armene nasce come solista violinista solista piena chi le dolfini. Non cercatelo su instagram o su tiktok non lo trovereste. Emmanuel Cechnavorian non è su nessun social anche se ha 28 anni classe 1995 non li trovo interessanti dice il musicista austriaco violinista e direttore d'orchestra che da settembre sarà il nuovo direttore musicale dell'orchestra sinfonica di Milano scelto all'unanimità da CDA e musicisti. Sono molto molto felice di essere il prossimo direttore musicale dell'orchestra sinfonica di Milano per me è qualcosa come un sogno un nuovo capitolo per l'orchestra per me per il pubblico milanese il mio auspicio è di avere sempre molte persone in platea all'auditorium il luogo dove celebriamo la musica l'amore e la passione in questa magnifica città di Milano nato a Vienna da una famiglia di origine iraniana e armene padre compositore madre pianista parla in inglese ma mastica già un po' di italiano la musica è la mia vita così racconta il musicista che ama il cibo e il calcio e tifa per il Real Madrid un incarico triennale dieci concerti a stagione a Milano per Cechnavorian che suona il violino da quando aveva cinque anni ma sempre sognato il podio la musica sinfonica italiana accanto ai grandi autori e perché no la tradizione armena iraniana e poi spazio ai giovani compositori italiani con l'orchestra ho un ottimo feeling quello tra un direttore e i suoi musicisti è un rapporto di dare e avere e sono pronto a dare e a ricevere ci fermiamo qui vi lascio al meteo a terza pagina a borghi d'italia che oggi ci porta a isola e l'ieri l'appuntamento con il tg 2000 torna alle 14 e 55 buona giornata grazie a tutti